Ma che l'ho fatta io adesso? Paga, stavo su un punto Stavo su un punto Minchia quanto, ma quanto fa paura un'elite in visita? Troppo paura Fa veramente troppa paura Forto che ho Dove sei Giancarlo? Sono fissuto, non sono caduto, sono proprio a piedi Arrivo, arrivo, arrivo Tu dove sei? Ti metti, dovresti mettere un tag No, non c'è tanto sei Dove sei? Aiuto Prai C'è anche il capo Grazie a tutti.